Spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione ai danni di un 31enne, 5 gli arresti. È accaduto a Modugno dove i carabinieri della locale compagnia hanno dato esecuzione ad un provvedimento restrittivo nei confronti di tre uomini e due donne abitanti a Grumo Appula, Mola di Bari e Bari Loseto, di cui 4 in carcere e 1 agli arresti domiciliari. I reati contestati, estorsione aggravata con violazione di domicilio commessa a vario titolo nei confronti di un 31enne di Grumo Appula. Ebbene, nei mesi di luglio ed agosto scorsi i 5 in diverse occasioni avrebbero avvicinato la vittima, minacciandola e picchiandola chiedendo il pagamento di una partita di stupefacenti che il 31enne aveva acquistato da uno degli arrestati. Sembrerebbe infatti che il giovane, nell'ultimo anno, avesse acquistato cocaina e marijuana con una frequenza di almeno 2-3 volte alla settimana, droga del valore di oltre 50.000 euro che lo stesso pagava in un secondo momento. Le minacce e le azioni intimidatorie sarebbero state rivolte anche alla madre e al compagno, così come alla fidanzata.